Stabilizzare l'occupazione e ottenere la clausola sociale. Per dare certezze, diritti e tutele alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici è necessario rafforzare il diritto di precedenza per gli assunti con contratti precari, ridurre la durata e indicare le percentuali massime di ricorso ai contratti precari, rafforzare il contratto di apprendistato, contrastare le forme di dumping contrattuale compresi i contratti pirata, garantire ai lavoratori degli appalti diritti e tutele a partire dai diritti sindacali e dall'applicazione della clausola sociale.